L'ultima opera di Sergio Staino e lo Yesus arriva nella libreria di Io ci sto di Napoli. Genuino, inquieto e un po' naif, questo Yesus moderno del disegnatore fumettista e regista e interprete della satira politica in Italia vive in una Nazaretta appena italianizzata ed è un uomo del nostro tempo con una schiettezza disarmante e una propensione inspiegabile per il deserto e il wifi. Uno strampalato amico di nome Peter, con cui condivide la passione per Bob Dylan e la chitarra, una mamma un po' troppo giovanile, preoccupata per i capelli incolti del figlio e per la sua assurda idea di diventare profeta e infine una figura paterna burbera e bonaria, come Joseph, molto simile a Bobo, suo storico personaggio. Tra il timore che la falegnameria del padre venga mangiata dall'Ikea, le astuzie di un demonio che lo tenta con la rivelazione dell'identità di Elena Ferrante, le incursioni di un Salvini armato di rosario e le ricette miracolose di Di Maio, Yesus teme davvero di perdere di vista quale sia la sua strada. Alla presentazione a Napoli erano presenti la scrittrice Maria Fortuna, il parroco del Rione Sanità Don Antonio Loffredo e il direttore del comics Mario Punzo. Credo che invece il problema di un cuore, di un'anima nel senso di passione, di solidarietà, di altruismo, di tenerezza, questi valori qui siano tutti da recuperare soprattutto, lo dico rivolto a me stesso, e soprattutto in un partito che è di sinistra. E credo che, come pensava Prampolini e tanti altri socialisti alla fine del secolo scorso, questo Gesù è stato il primo socialista al mondo. Grazie a tutti.